A breve scadrà la concessione della Rada San Francesco e l'autorità portuale dovrà decidere cosa fare di quella importante porzione di territorio cittadino, da anni ormai nelle mani dei traghettatori privati. Un'area oggi gestita esclusivamente dal Gruppo Franza e destinata ai collegamenti via mare tra Sicilia e Calabria. Nel sito dell'ente di Via Vittorio Emanuele non c'è ancora traccia del nuovo bando per l'affidamento tra i soggetti che parteciparono alla gara del 2013, la Caronte Turis, la Salerno Container e la Fratelli Catalano di Reggio. Alla Compagnia di Franza la giudicazione dei 40.000 metri quadrati che costituiscono l'approto di Viare della Libertà. Un appalto passato anche sotto la lente di ingrandimento della magistratura per presunta turbativa d'asta a causa dei rapporti tra le prime due società. Inchiesta poi archiviata nel novembre dello scorso anno con il proscioglimento dei soggetti coinvolti. Nei mesi scorsi il Comitato della nostra città ha avviato una petizione popolare per chiedere la chiusura della Rada e il trasferimento di tutto il traffico in transio dallo stretto a tre mestieri, ma il rinnovo della concessione sembra scontato se si considera che la Proda Sud attende ancora i lavori di ampliamento e le attuali due invassature non sarebbero in grado di smaltire tutto il flusso.